Tornata di Champions League, in pratica, avendo comunque recuperato Bode e Hobschek Il Milan, il suo scudetto, l'ha praticamente vinto battendo Juve Tornati in collegamento con il Veselstadion di Brema, entusiasmo Brema e Milan Chiramento del Milan, allora, Salvatore Bagni con me per questa telepronaca Se il Milan non è abituato però, adesso manca tutti i vantaggi sull'Andalek Ed è giusto che adesso la partita Questa sera ma allo spirito ha detto Otto Rehag Regolarmente al suo posto è probabilmente Rune Brassett più sereno Attenzione Popan, Massaro, prova a girarsi Si salva Rehag Bravo anche se ha avuto un'incertezza, rivediamo È bellissimo il cross ma è stato eccezionale Secondo me Massaro che si gira in un attimo e trova il palo più lungo Rehag è stato molto bravo in questa occasione Ruffer, decentrato, scatta Noibart Laggio per lui, pericoloso, attenzione Noibart spinge via l'avversario Noibart destro, Rossi miracolo Incredibile Qui secondo me c'è stato un fallo netto di Noibart su Costa Curta L'arbitro è lasciato andare Bravissimo secondo me Rossi a intervenire e a non tuffarsi prima Perché si vede adesso il tiro, lui rimane in piedi fino all'ultima Sta pensando di smettere al fine di questa stagione Ma intanto Rehag è il punto ancora su di lui Abbiamo rivisto evidente fallo su Costa Curta L'arbitro però evidentemente ha considerato spalla Bastler riparte, Werder Brehma ha cominciato bene Attenzione, Hobsch, tocco per lui Hobsch, Hobsch, anticipato Che partita, partita velocissima Ancora una volta Hobsch ruba il tempo Maldini Ma Filippo Galli con un grandissimo tempismo ruba Brazzet aiuta in centrocampo Noibart, grande azione del Werder Cross teso, pericolo, Hobsch, sbaglia Starsi in difesa preso anche dalla velocità del Werder Direi di sì, qui Hobsch aveva su andare i giocatori in velocità sul fondo Perché dopo quando arriva sul fondo sono molto molto pericolosi Si seriscono sempre in due Va a chiudere Maldini Prova da girarlo, Rufer Si riesce parzialmente, poi va giù Maldini copre, poi con la gamba secondo me allunga Arriva sul pallone, nettamente No, non tocca Adesso in questo momento sì, non era Il grande italiano Attenzione, Bode, si gira, Rossi Di Comadrid, cominciò con il dubla Praga Votava ad aprile, 38 anni Qui rivediamo il tiro di prima di Bode Si gira bene, sorprendendo questo Tocca a largo Eranio, ancora Donadoni Buono lo scambio Savicevic, zona tiro Doppia finta, sinistro Re Savicevic fuori dall'area Savicevic ha cercato lo spazio per calciare Poi ha preso quasi il controtempo rec Che ci è arrivato Perché è molto alto Va bene il Milan a far girare la palla Con molta precisione Savicevic, palla buona per lui Prova il sinistro Alto Non ha colpito troppo bene Rivediamo Eh no, ha tentato Viedenar di fermarlo E poi era difficile anche trovare lo spazio Doveva cercare solo quell'angolo Ancora Massaro Condizione invidiabile Perché quando parte Li lascia sempre dietro gli avversari Donadoni, attenzione Zolatino, destro Ecco che rivediamo Tiro alto di Donadoni Adesso proprio da queste immagini Vedevamo che c'era Leigat Eranio su di lui Lo fa fuori Leigat In grande serata Attenzione Tiro cross pericolo Paura di essere in fuorigioco Perché è rimasto sorpreso Quel punto poteva continuare la sua cosa Preso di mira per i piedi Corruvidi Ma attenzione Bustler Parco per lui Bustler mette in mezzo Ross incredibile Su Hobs E vediamo Bustler Che non so se è in posizione regolare Poi da una palla eccezionale Di piatto su Hobs Che chiude Chiude bene Ma Rossi è lì E la trattina Si se l'ha trovato addosso Ma è stato bravo a trattenere A quel punto bastava che Sarebbe Rossi Eccolo Il controllo di pote Il tiro Rossi ancora Porta in A gancia Vede la spinta Poi a gancia Eccezionale Ma qui Rossi È già la terza Quarta Parata Eccezionale Attenzione Tutto pronto Il tocco Bustler a spagna Troppo forte Forse il tocco di russo Tu Massaro Ancora scambio con Boban Ecco il cross Pericolo Colpo di testa di Eranio No secondo me inizialmente Comunque il cross era buono Lui arriva prima Ma era disturbato Al momento Lo sposta Legat sposta Eranio Boban Savicevic Chiede palla Palla buona per lui Il cross Teso Massaro Anticipato All'ultimo Il tiro da fuori È un buon cross Il primo palo Massaro tenta Ad anticipare Ma viene a sua volta Anticipato Penso da Bayer Doff Perciò Buonissimo intervento Ma buona l'azione Giocata bene Del Milan Un triangolo L'intervento di Tessai Sul bode Fisca il pubblico L'aggi profondità Per Hobs Lo supera Galli Fa giù Calcio di rigore Superato Lo ha spinto probabilmente Si lo ha spinto E più Anche non ha trovato Qui forse Poteva Ecco Poteva trovare il tempo Per l'uscita Rossi Però ormai Lì spinge Appogge Poi c'è Il momento rivediamo Per l'ennesima volta Quest'episodio Che poi verrà analizzato Nello speciale Tutto pronto Al settimo minuto Parte lui Ed è rete Rete Protesta Rossi Lo fa di solito Ma secondo me Non frena la corsa Assolutamente Rallenta sempre Per far muovere il portiere C'è riuscito anche questa volta Ha continuato la corsa È molto difficile per il Milan Perché il Werder Potrà giocare in contropiede E dovrà stare molto attento Questa volta Rossi Lascia volata Sempre verso Hobs Punta l'avversario Hobs Doppia finta Attenzione Ruffer Mette in mezzo Rossi Iniezionale Ha dato una palla bellissima Ruffer Che secondo me ha esagerato Ha cercato un pallonetto Gli è venuto malissimo Per oggi ha trovato lo stesso Il pallonetto È centrale Toccato improvvisamente Tassotti Parti cross Rek Desai Non Cross Rek Anticipa Anticipa l'uscita Non è una grandissima uscita Perché sbaglia Ha tutto il tempo Di trovare Di trovare la porta Invece la Se avesse trovato la porta Avrebbe potuto trovare la gamba Di qualche giocatore L'anio praticamente Io anduola in velocità Con Legat Che non riesce a raggiungerlo Grande fuga di Massaro Fintra il pallone Savice dice Rek Savice Mi fa il massimo Perché si trova la palla Troppo vicino al corpo L'alza E Rek In quella posizione Sì ha fatto una buona parata Ma Massaro È incredibile Una progressione Di 50 metri Di Massaro L'ha lasciato Senza fiato Legat Ecco Tassotti Scatta Simone Buono il lancio per lui Attenzione Simone 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 Rek Attenzione Tazzet Se Capella L'ha saltato in piedi Pensato al gol Boban Savice Destro Rete Ecco il gol Savice Difficile per il Milan Rivediamo Forse c'è stato Sì c'è stato un tiro sbagliato Di Maldini Forse Lui ha recuperato benissimo La palla E ha piazzato Di destro Sì perché Di destro Tutto è nato da quella recupera Eccolo di nuovo Donadoni Punta votava Savice Vincisinistro Rivido Sempre su chi va là E lui ha Più di una volta Può trovare Come in questo caso L'avversario Viso aperto Cercando la vittoria Simone Scatta Massaro Simone Ondeggia Vibere il destro Rek C'è stata anche una leggera deviazione Sul tiro di Simone Vediamo se c'è la deviazione Di Bayer Dorfer Sì Eh sì Perché è stato sì Sbilanciato Secondo Secondo E' cronato fisicamente Attenzione a Boban C'è Simone Legat Simone Destro Rek Ruba il tempo Ruba il tempo A Legat E trova la coordinazione Per cercare il primo E' uno a uno Il risultato Tutti i due gol Il secondo tempo Ruffer su rigore Il risultato Il risultato Il risultato E' Il risultato Is Le Non è come come noi, non spiela proprio libero Donadoni Fini ball Ine l'arriza, vi seri tutti all'edres, gli ha detto l'arriza OJ! OJ! Vi sanno che! Viste, è l'arriza? Ah, non è l'arriza, non è l'arriza Ah, non è l'arriza, 5-3, l'arriza E' l'arriza Voi, è l'arriza, l'arriza Il primo di Diter Bordensky che stod in molti... Come Donadone istället! Lonti uto per kanten di Massaro! Defensiv, come io credo di sarebbero. O rischio di sarebbero. Non è nascita con 0-0, ma... Non è lungo, non è vero? Non, non è vero! Non è giusto! Non è un'escritto molto. Un'escritto non è un'escritto, ma è sicuro che è sicuro. È un'escritto che era fatto. L'escritto è stato fatto. È un'escritto! C'è l'escritto che sono molto irritiato. Ma dovrebbe essere un'escritto? Non, non ho avuto il gioco con Massaro. Un periodo da l'escritto. L'escritto è detto che non è il gioco. Il gioco il gioco il gioco. L'escritto è stato fatto. No, non ho! C'è l'escritto, è un'escritto. Maldini, ora! Un'escritto è un'escritto. Don Doni. Il gioco il gioco in l'escritto. È un'escritto. No, ora è un'escritto. L'escritto è l'escritto in l'escritto. Stefano Erano, Arlag's man, Arlan's slag, l'escritto è un'escritto. Non, non è un'escritto. Non è un'escritto. Il fatto una cosa importante in sua carriera. Il gioco 2-2. L'escritto. Qu'è la presenza? Il gioco Erano? L'escritto è il gioco. Non è stato un pollo spesso, non è giusto. Qui c'è il giusto? Chiangsu Boba! Il giusto un piccolo, quindi... ...e'l bisogno di avere chanx. ...e'l bisogno di avere la possibilità di giusto. ...e'l ha fatto 2 gol. ...e'l ha fatto 2 gol. ...e'l ha fatto il rischio. ...Nesai... ...e'l ha fatto un scott. ...Maldini... ...non si è in repriso. ...Donna Doniz... 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 Sì, questo è il migliorno dei miei Il migliorno è il migliorno Se non dovessi lasciare il migliorno Paolo e Maldini Può farlo? Sì Ricci Sì, sì Sì, sì 1-1 Sì Sì, sì 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 No Non è un po' che è un po' che è venuto da parte, ma non è venuto? È vero che è venuto. Ah, nasce qua, Simone! Ah, è che più lungo da parte qua, va? Ah, un po' di... Ah, è uno dei chiesti. Tu non ho detto che Parli con Bartie ha già fatto ancora? Ah, avete fatto? Ah, è venuto. Ah, non è la mia vita. Non è un po' che vuole dire, ma è stato... Ah, via il stafferbredo. È un po' di bai scolfer. Uno dei veterani, 30 anni, in Werder Bremen. Contri, è in mezzo di plan. Boban försöker hitta Stigga, non Ossai, non è Simone, Boban! Sì, bravo! Ossai, Visevic ha giù un pollo e fa Capello un pollo.